Questa è un'ottima notizia per il Milan, ben ritrovati amici come state, iscrivetevi qui mi raccomando se lo avete ancora fatto dai che oggi forse arriviamo a 10.000, mancano 10 iscritti, qualsiasi squadra che voi ti fiate si parla di tutto il grande calcio, calcio mercato, storie di calcio belle e brutte, punti di vista commentate e lasciate un like allora ieri c'è stato, nell'escorsione insomma c'è stato l'incontro a casa Milan magari l'altro ieri, dipende quando vedete questo video sapete che recentemente c'è stato l'incontro a casa Milan tra Enzo Raiola, l'avvocato Rigo un collaboratore e Maldini Massara per parlare del rinnovo su Milan Nello vi abbiamo dato in esclusiva in anteprima una discrezione sulla differenza 700.000 euro, quindi 1.400.000, 1.500.000 all'ordo circa da quello che risulta le parti si stanno per riaggiornare e riavvicinare potrebbe essere già questa settimana, prima che arrivi Natale o al più tardi la prossima con il Milan che vuole chiudere la pratica rinnovo Benasser entro la fine del 2022 capite che manca poco, se togliamo pure Natale, Santo Stefano, insomma ci siamo e il giocatore è rimasto soddisfatto della proposta del Milan dopo che Raiola ha lasciato casa Milan e è andato direttamente a casa di Benasser ha illustrato la proposta, c'è soddisfazione ora insomma si aspetta di trovare la quadra finale con il Milan che alzerà un po' l'offerta lui magari che scenderà un po' e ci si troverà probabilmente a metà strada però ecco, grande fiducia questa volta sì di un rinnovo che dovrebbe essere imminente non credo che ci saranno questa volta colpi di scena a differenza di altri casi nel passato ditemi che cosa ne pensate per me Benasser è un giocatore davvero fondamentale per il Milan iscrivetevi qui, mi raccomando, sul logo L lasciate un like e commentate numerosi buone feste a voi e ai vostri cari ma ci vediamo ancora prima di Natale un abbraccio a tutti e buona continuazione, buona serata, buona mattinata secondo di quando vedete questo video un abbraccio, ciao!